Il trapianto carteraggino joint wrap with the micro fracture, adesso conosciuto come Pipinos Technique, permette un recupero completo dei pazienti alle attività sportive in un periodo compreso tra i 6 mesi e i 12 mesi. È preferibile ricorrere a questa modalità visto che si dà il carico concesso già dal primo giorno e l'intervento non è assolutamente invalidante, visto che i pazienti già 5 giorni all'intervento possono deambulare senza l'uso di nessuna stampella.